L'HCC, acronimo che sta per epatocarcinoma, ha fatto registrare un sensibile aumento negli ultimi anni. È legato soprattutto alla diffusione dell'infezione da virus da epatite C, che si contrae banalmente per una iniezione endovenosa durante una cura, una trasfusione, un intervento chirurgico o, se si è dediti, alla droga. Tra il 50 e l'80% dei casi si può guarire, nell'altro 20-50% dei casi la malattia evolve verso la cirrosi epatica e di qui verso il cancro. Negli ultimi tempi si sta sperimentando con risultati molto interessanti la termoablazione, il trattamento di una o più metastasi al fegato, con un ago elettrodo percutaneo, attraverso il quale passano microonde oppure laser o radiofrequenze le più usate, che sotto guida ecografica producono un effetto necrotizzante, esercitato dal calore sui tessuti biologici. Sulle tecniche di termoablazione usate anche nelle strutture sanitarie campane è molto avanti il servizio di ecografia, diagnostica ed interventistica della clinica Salus di Battipaglia. Temperature di 43-45 gradi producono un danno reversibile degli insimi cellulari, che divenne poi irreversibile per i tempi di esposizione superiore ai 25 minuti. Temperature superiori ai 60 gradi determinano in pochi minuti una necrosi coagulativa dei tessuti, ma una necrosi ottimale viene ottenuta con temperature fra i 70 e i 95 gradi. Insomma siamo di fronte ad una tecnica emergente con prospettive terapeutiche molto interessanti perché integrabili con la chirurgia tradizionale e soprattutto perché limitano danni e tempi di degenza al paziente e hanno un impatto molto più leggero sui costi del sistema sanitario nazionale.